signora scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente io sono quel tizio che abita proprio di fronte che quando si affaccia qualcuno vede una mente mentre l'acqua del rosa vi ammiro di rimpetto signora che bella cosa quando spandete calze e il recipiente vostro marito Cosimo Pellecchia è veramente un uomo fortunato che bella mogliettina si è trovato con i suoi 70 anni e forse più signor scusate la curiosità come vivete solo per i fiori signora mia facetemi un favore spiegatemi sto fatto come va qualcuno certamente ve lo dà ve lo dà ve lo dà o cura ci supporta noma rite che l'età noma rite che l'età signora mi ha detto il portiere che voi si rimpellate la chitarra per questo prendete lezioni ogni di puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento una suonadella al giorno è davvero un grande diretto però vostro marito che fa mentre voi suonate il minuetto dopo mangiato Cosimo Pellecchia oltre al riposo non pretende niente si fa un orino al letto allegramente mentre voi solfeggiate solfeggiate il minuetto dopo mangiato come va chi ve lo dà chi ve lo dà ho cura ci supporta noma rite che l'età certo la vita è dura e in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore ma tutti io non posso solo va arrivo professore ve lo dà ve lo dà ve lo dà o cura ci supporta noma rite che l'età noma rite che l'età signora se un giorno per combinazione il professore manca la lezione facciamo rite che l'età signora tenetemi presente grazie 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 grazie